La risposta dello Stato ai numerosi atti intimidatori registrati nel Foggiano dall'inizio dell'anno, perquisizioni e arresti anche nelle ultime ore. Danilo Giannese. 8 persone arrestate tra le quali un ricercato, posti di blocco sulle strade, perquisizioni in abitazioni, negozi e casolari di campagna alla ricerca di esplosivi, armi e droga. Vasta operazione anticrimini a Foggia e provincia a pochi giorni dalla visita della ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Impegnati un centinaio di uomini e donne, di polizia, carabinieri e guardia di finanza, un segnale forte contro la criminalità organizzata dopo gli undici attentati incendiari dall'inizio dell'anno contro imprenditori e amministratori pubblici, bombe che da Foggia a San Severo hanno devastato auto e negozi facendo ripiombare nella paura ai cittadini. A Foggia in Manette un quarantenne in fuga da tempo, già condannato a otto anni per furto, falso e ricettazione, si nascondeva in una casa in un quartiere popolare coperto da altre persone. Tra gli otto arrestati anche un uomo di 46 anni, evaso dai domiciliari, trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronti a essere vendute. Manette per un 33enne pregiudicato che non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri. Durante la fuga ha gettato un pacco di cocaina dal finestrino della sua auto. La procura di Trani al lavoro dopo la scomparsa...